Ciao a tutti e un saluto da Edo Vapers, oggi recensiamo una Vaporesso GTX Go80 Una sigaretta che ho comprato qualche settimana fa e mi ha stupito molto Visto il suo prezzo, ora l'andiamo a vedere, non lo specifico Questo è quello che c'è dentro, ovviamente la sigaretta Una coil e il caricabatterie Type-C La sigaretta possiede del magnete, qui Molto utile, possiede anche della tecnologia SSS Che evita la perdita di liquido Ha la ricarica dall'alto, ora vi faccio vedere meglio In questo foro rosso smette il liquido Molto utile il fatto della ricarica dall'alto Per chi anche esso prevede una perdita di liquido molto bassa Perché comunque è una sigaretta a forma tubolare Quindi il liquido perde a 80 W e 300 mAh Questa cosa mi ha sorpreso molto, visto il prezzo Ritorno ai 20€ Ritornato alla caratteristica è alta 26x133 mm Quindi è abbastanza grande Ha la coil di 0.2 Ohm Passando a come si usa Semplici e classici 5 tocchi Per accendere Si può regolare l'aria qui Così si viene premuto per l'accensione Se il led è verde È carica Se il blu è metà E se è rossa È il momento di mettere a caricare Promettendo che questa non è la mia prima sigaretta Cioè non è la principale che uso L'ho usato per un po' E mi ha sorpreso davvero tanto Come detto in precedenza L'unica cosa è il tiro È molto forte Anche se mettiamo l'aria a poco Il tiro viene sempre molto forte Intanto si è appena fatta rossa Vi faccio vedere il tiro Nel momento ci uso Mango Però ci ne ho pochissimo Perché non l'ho usato da un po' Non l'ho usato da tipo 3-4 giorni Vediamolo in azione Non so se si vede Il tiro è forte Fa tanto fumo Però comunque Non mi ha sorpreso così tanto Da mettere come mia sigaretta principale Al momento uso una Lux Q Sempre di vaporezzo Magari porterò un video Anche su quello Anzi porteremo Perché ci saranno video in due Questa qua è la recensione sulla GTX Go 80 Vi ringrazio per aver visto il video Un saluto Da The Vapers